Ennesima truffa al telefono, vittima questa volta un'insegnante teramana di 64 anni che ha denunciato ai carabinieri di aver ricevuto una telefonata da un'utenza simile a quella della centrale operativa dei carabinieri del comando provinciale. Un soggetto dall'altra parte del telefono si è qualificato come ufficiale dell'arma per informarla che si era verificata una fuga di dati sensibili dai server dell'istituto di credito presso cui la vittima è correntista e che da lì a poco sarebbe stata contattata da un incaricato del servizio antifrode della banca. Poco dopo la vittima infatti viene contattata con un'altra utenza mobile dal sedicente incaricato della banca il quale le riferisce che avrebbe dovuto fare un bonifico istantaneo di 11.000 euro su un codice IBAN indicatole dallo stesso. Fatto quel bonifico la donna si sarebbe dovuta recare in caserma per parlare con l'ufficiale dei carabinieri che l'aveva contattata all'inizio ma quando l'insegnante si è presentata al comando provinciale di Teramo ha realizzato di essere stata truffata posto che nessun carabiniere l'aveva contattata dal centralino della caserma. Un'altra truffa con la tecnica dello spoofing c'era stata lo scorso 16 giugno ai danni di una signora di Roseto che però in quel caso non era caduta nella trappola. I carabinieri continuano a raccomandare massima attenzione quando si ricevono telefonate sospette le vittime privilegiate restano gli anziani e quello che vedete ora è il nuovo spot dei carabinieri contro le truffe con testimonia Lino Banfi. Chiamate l'112, noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi eh!